Oggi torniamo a parlare di frigacompressore. Dopo un mese e mezzo di prove su questo Alpicool XD45 vi posso raccontare un po' della mia esperienza, come mi sono trovato e soprattutto dei suoi consumi. Farò un po' di prove particolari basate anche sul fatto che io ho semplicemente due batterie GM da 100A e due pannelli da 100W l'1. Inizio subito dando un voto a questo prodotto. Ottimo! Sono rimasto davvero stupito dalle sue prestazioni perché è rimasto acceso un mese e mezzo filato senza mai perdere un colpo e soprattutto dei suoi consumi che adesso andremo a vedere un po' nei dettagli. Prima di parlare dei consumi e delle prove che ho fatto vorrei semplicemente fare un appunto sulle cose che non mi sono piaciute tanto. Ho già fatto una recensione di questo frigo in questo video che vi linko qua sopra e che vi linko in descrizione. Avevo appunto detto che questo è un frigo a doppia cella, quindi c'è una e una due celle. Sono separate. La temperatura si può impostare solo della cella principale, quella più grossa. Quella più piccina è una cella che va diciamo per simpatia, si autoregola. Se noi impostiamo la temperatura della cella come frigo, quindi a 7 gradi per esempio, come ne impostavo io, la temperatura più piccola varia tra i 7 e i 18, diciamo quando poi si riaccende il compressore e torna di nuovo giù. Questo è un funzionamento dichiarato, chiaro, lo sapevo, l'ho già spiegato anche nell'altro video e va benissimo per mantenere le cose fresche, ad esempio una barretta di cioccolato piuttosto che un po' di verdura o cose del genere. Però per come utilizzo io il frigo forse mi sarei trovato meglio con una cella con una temperatura regolabile o magari con una cella unica con una temperatura unica in tutto il frigo. Attenzione, questa è una mia osservazione per come io uso il frigo e poi questo modello è fatto così. Sul catalogo al PQ ce ne sono di tutti i modelli, tutte le tipologie, tra cui anche cella unica o due celle separate ma con temperatura regolabile a piacere per ognuna delle due celle. Ma veniamo un po' alle prove che ho fatto. Iniziamo subito a dire che una volta ricevuto il frigo mi sono montato una presa 12 volte con una linea dedicata solo per lui. Facendo questo ho staccato l'impianto e poi li ho riattaccato ma non ho riattaccato i pannelli solari perché sono scemo. A quel punto involontariamente ho fatto una nuova prova. Quanti giorni sono andato avanti alimentando un frigo compressore più tutte le mie utenze da full timer senza a quel tipo di ricarica perché i pannelli erano staccati. Cinque giorni. Dal lunedì al venerdì sono andato avanti. Tanto c'era anche il temporale quindi anche quei pannelli non avrei ricaricato molto. Mi sembra un ottimo risultato contando che io ho solamente due batterie GM da 100 ampere. Attenzione, io non ho passato le mie giornate chiuso in camper a consumare corrente. Io magari andavo in ufficio, c'era la volta che tornavo alle 11 di sera, la volta che stavo mezza giornata a lavorare dal camper. Insomma un utilizzo un po' normale di vita quotidiana. Ricordatevi però che io sono da solo e ho dei consumi abbastanza bassi. Carico il cellulare, un po' di luce a led e poco più. Se voi foste in quattro con quattro cellulari da caricare, i tablet, la tv, con il zionatore magari avete dei consumi sicuramente maggiori rispetto ai miei. Comunque una volta che mi sono accorto di quanto sono rincoglionito, lasciatemelo dire, ho ricaricato le batterie alla colonnina e ho rifatto tutti i test. Bene, da quel momento sono andato avanti per più di un mese senza mai attaccarmi alla colonnina. Questo vuol dire che i miei due pannelli da 100 watt hanno sempre ricaricato a sufficienza le batterie per alimentare il frigo e tutte le mie utenze. Le prove sono state fatte nel mese di ottobre, che è vero che c'è più sole che in inverno, ma non c'è nemmeno quel sole estivo a picco che ti fa caricare magari 9-10 ampere con un impianto come il mio. Inizialmente io pensavo che ogni settimana sarei dovuto andare a caricare, invece no. Basta avere un po' di sole che l'impianto si carica a sufficienza. Ma passiamo un po' ai testi in tempo reali. Vi mostro effettivamente i consumi e soprattutto quanto ci mette in termini di tempo ad arrivare da spento a frigo e successivamente a freezer. In questo momento il frigo è spento da 2-3 giorni. Ora lo accendo alimentandolo con la mia power station e vediamo quanto ci mette e quanti watt mi consuma in tempo reale per arrivare alla temperatura impostata di 7 gradi. Accendiamo. Questo parte e tiriamo giù la temperatura a 7 gradi. Nella cella piccola ne rileva 23, in quella grossa ne rileva 18. Questa è la cella piccola, questa è la cella grossa. Lo sto facendo funzionare in modalità eco che è la modalità risparmio. Il compressore è partito, il consumo al momento è sui 31 watt. Sono le 15.37. Vediamo quanto ci mette a arrivare in temperatura. Secondo me ci va una mezz'oretta. Sono passati 12 minuti e siamo sempre intorno ai 30 watt. La temperatura interna è scesa a 14 e 12. Siamo arrivati in temperatura in circa 25 minuti. Abbiamo 3 gradi interni nella cella grossa, 11 in quella più piccola. L'assorbimento al momento è completamente a zero e si è ciucciato il 3% di tutta la mia batteria. Contando che sono in eco ci ha messo più o meno lo stesso tempo della modalità standard, quindi sempre più soddisfatto. Ora facciamo una prova. Lo mettiamo in modalità standard e lo mandiamo a meno 15. Proviamo a mettere la freezer, vediamo quanto ci sta e facciamo una seconda prova. Permette le modalità standard, quindi togliere la eco, si schiaccia l'ingranaggio ed ecco fatto che HH è la modalità standard. Ora prendiamo la temperatura e la impostiamo a meno 15, meno 12, meno 14, 9 di mezzo dai. Ora dovrebbe ripartire il compressore. Eccolo qui che è partito. Come possiamo vedere, senza la modalità eco il consumo inizia a salire. Non siamo più intorno ai 30, ma siamo intorno ai 40. Comunque anche 40 watt in modalità standard mi sembra ottimo. Sono le 16 e 10, vediamo quanto ci mette ad arrivare poi a temperatura a meno 14. Sono le 16 e 24, siamo a meno 7 e il consumo è di 41 watt, 40. Siamo sempre lì. Allora siamo arrivati a meno 14 gradi. Due gradi nella cella più piccola, consumo azzerato. Orario 16 e 31 ci ha messo altri 20 minuti per arrivare da 7 gradi, in realtà poi era 3 in quel momento, a meno, qua ne segna meno 15, tu imposti la temperatura, poi lui la porta un pochino più giù e riattacca il compressore quando la ripassa di un paio di gradi. Detto questo ringrazio nuovamente Alpicool per avermi inviato a quest'ottimo frigo. Se avessi delle domande scrivetele qua sotto che sarò ben lieto di rispondermi oppure scrivete anche direttamente ad Alpicool perché l'assistenza è molto molto disponibile. Vi lascio qui un link al video dove vi parlo un po' del mio impianto solare, di come me lo sono strutturato. Iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!